12 minuti all'inizio di gara 6 fra Varese e Pergine abbiamo il piacere di avere un tifoso locale come ti chiami? Elia se non sbaglio oggi sei venuto a fare il tipo per la tua squadra che potrebbe vincere per la prima volta il campionato oltre a essere tifoso del Pergine se non sbaglio hai un cugino che gioca in prima squadra come si chiama? Gioele Giacomozzi numero 23 numero 23 e non ti ha fatto venire la passione da giocare a hockey? tu fai un altro sport? no perché l'hockey non mi piace ma faccio rugby mi piace il rugby un altro sport molto avvincente un periodo in cui l'Italia sta facendo molto meglio degli altri anni a parte tuo cugino che ha repito qual è il tuo giocatore preferito del Pergine? sempre il mio cugino ma sempre il tuo cugino e sei venuto qualche volta anche in trasferta a Varese oppure no? no no mai quindi stasera speri di vincere per non dover venire sabato sera a Varese per gara 7? sì senti come finisce la partita? azzarda un pronostico chi vince secondo te stasera? Pergine e in caso di vittoria possiamo chiedere alla mamma visto che ci saranno i festeggiamenti se domani non ti mando a scuola? sì allora in caso di vittoria del Pergine domani mattina si può dormire fino alle 11 ok 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 bocca al lupo e salutami tuo cugino ok 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 ok